Hai mai avuto l'impressione che in alcuni momenti della tua vita tutto ti remasse contro? O al contrario, che ti sia accaduto qualcosa proprio quando serviva? Ti è mai capitato di vivere circostanze nella tua vita che si sono ripetute più volte, come il ripetersi di un ciclo? Oppure ancora, di pensare ad una persona e da lì a poco ne hai avuto notizia? Caso? Forse. Questo tipo di eventi capitano tutti i giorni e a tutti. Prova a fare le stesse domande alle persone che ti circondano. E se capita a tutti, si può davvero parlare di caso? Dunque, sei proprio sicuro che tutto ciò che ti accade non dipenda da te? C'è una verità sottile, un codice nascosto talmente elementare da non essere visto ad occhio mudo. Ad esempio, come fai ad essere certo che il sapore del cibo che mangi sia uguale per tutti? Come ti comporteresti se sapessi che dietro la tua vita si celano delle dinamiche ben precise? Questa è sincroquantistica. Quantistica mente Fisica della mente Corpo quantico Intelligenza quantica Fisica del cambiamento Primo viaggio evolutivo Un percorso di evoluzione interiore attraverso se stessi per porre cambiamenti importanti nella propria vita, nella propria realtà personale. Quantico Quantico è un modo di pensare, di vivere. Impara a modellare la tua realtà. Questa è un modo di pensare, di vivere. Questa è un modo di pensare, di vivere. Questa è un modo di pensare, di vivere.